Avrei potuto essere un pochino testista, bruciare il cassone come fanno i black bloc, invece come vedi sono un terrapiattista e faccio le ricerche per capirti di più. La forma della terra l'hai capito anche tu, è piaccia, piana, ferma, senza giravolte. È inutile che fai la faccia da sconvolto, qualcuno qui ci apre di per il culo. Adesso stai chiedendo chi ti è stato a far questo e ti potrei rispondere che c'eri anche tu. Però ti vedo sveglio e forse un attimo onesto, e voglio stimolarti a meditarti un po' su. Avanti dimmi, ti interessa continuare le palle spaziali? Chi è che vuole così tanto andare su Marte, che dice che è già andato sulla Luna? Che chiede e prende soldi per ricerche, satelliti, astronauti, per il mantenimento della falsa ISS? Chi stanzia questi soldi dai fondi dei governi? Chi ha il logo messo in mostra con sulla terra piana? Chi nei telegiornali ti mette sempre il globo? La bella biglia blu? Sono davvero in tanti e forse anche di più. Avrei potuto essere un pochino tefisa, bruciare i cassonetti come fanno i black blonde. Invece come vedi sono un terra piazzisca e faccio le ricerche per capicci di più. La forma della terra l'hai capito anche tu, è piatta, piana, ferma, senza giravolte. E' inutile che fai la faccia dal tuo volto, qualcuno qui ci ha presi per il culo. Avrei potuto essere un pochino tefisa, bruciare i cassonetti come fanno i black blonde. Invece come vedi sono un terra piazzisca e faccio le ricerche per capirci di più. La forma della terra l'hai capito anche tu, è piatta, piana, ferma, senza giravolte. E' inutile che fai la faccia dal tuo volto, qualcuno qui ci ha presi per il culo. Grazie.